buongiorno a tutti bentrovati come state spero bene allora oggi la luce fa veramente schifo ho provato a girare questo video da tre giorni con delle giornate stupende ma il mio telefono ha deciso che deve morire ogni giorno lo sto mettendo in carica tutti i giorni gli smartphone sono strafighi ma purtroppo dopo un po hanno questo problemino con le batterie allora quindi la luce è bruttissima sto proprio senza tutte le tende aperte con i vicini che mi guardano strana perché parlo da sola va bene allora questo video è il video degli ultimi arrivati ebbene sì io avevo detto che non avrei comprato più niente ma ho mentito spudoratamente pure questa volta quindi sono senza rimedio senza cura e vi beccate i miei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 libri che ho acquistato no li sto accumulando da un po devo essere sincera non è tantissimo che ce li ho non è pochissimo scusate che ce l'ho dentro l'armadio il problema è che a me sembra che ne manchino uno o due perché quando ho rimesso a posto l'armadio che non contiene solo libri ma anche decine e decine di altra roba mancano solo giove marte saturno dentro quell'armadio dopodiché c'è tutto penso di aver perso una busta ma sopra sediamo su questa cosa gioiosissima allora vi faccio vedere il libro che ho iniziato qualche giorno fa e sono arrivata a pagina 40 non ne ho letto tantissimo il giardino degli incontri segreti di giunti di lucinda riley guardate che bella copertina ebbene sì devo confessarlo questo l'ho comprato per la copertina anche io a volte faccio queste cose cattivissima me anzi frivolissima me in questo caso 5,90 il simpatico bollo sono 589 ma in realtà 588 perché l'ultima pagina è irrisoria allora questo io l'ho comprato per un solo per un solo proposito a parte la copertina però no l'ho comprato seri torniamo seri l'ho comprato per un motivo perché già l'altra volta vi parlavo dei libri da leggere tra un mattone e l'altro no questo svolge lo svolge attualmente perché lo sto leggendo questa funzione nel senso che esco da un libro di storia impegnativo perché ho appena finito di leggere la storia di roma che è stata molto interessante bella ma anche abbastanza pesante diciamo che ho accusato il colpo ho accusato il colpo però ne è valsa veramente la pena e non avevo proprio non c'avevo proprio i neuroni adatti per poter leggere qualcos'altro di serio perché ho un sacco di libri di temi abbastanza importanti ma non mandava proprio quindi fortuna ha voluto che un po di tempo fa acquistassi questo che sta facendo adesso da toppa la trama non lo so mi sembrava carina c'è un po di mistero amore mistero non lo so non so neanche di che genere è questo romanzo l'ho comprato così tutti gli acquisti che vedrete sono stati un po impulsivi non c'entra ovviamente non c'entrano niente l'uno con l'altro questi romanzi sono di generi completamente diversi ma voi lo sapete che io salto di palo in frasca però devo dire che mai come questa volta a parte uno forse due dei nove che vi faccio vedere sono stati ragionati gli altri sono stati tutti dettati dall'impulso chissà se ho fatto le cavolate allora vediamo un po la bancarella dell'usato che cosa ci ha riservato ho comprato questi due allora ho preso emily dickinson l'ho pagati fiabbe leggende di tutto il mondo non si vede però è oscar mondatori l'irlanda allora io avevo già letto qualcosa riguardo a questo argomento però l'ho trovato carino interessante divertente quando ho visto questo non potevo lasciarlo lì non vi posso dire il prezzo originale perché questo era un regalo infatti dentro c'è una dedica quindi hanno dovuto coprire il prezzo però non penso che gli oscar mondatori costino poi così tanto insomma io vedo le biografie la più la più costosa che ho visto di quelle che mi interessano costa intorno ai 12 euro quindi non penso che sia così eccessivo il prezzo e tra l'altro io non sapevo che esistesse una collana dell'oscar mondatori che parla di fiabbe leggende di tutto il mondo e adesso che lo so so già che sono rovinata perché io l'andrò a cercare cercherò di tutto gli argomenti più inimmaginabili sono quante pagine vediamo sono 234 e non lo so sarà interessante è scritto largo quindi vediamo vediamo un po' beh non significa niente che è scritto largo oppure no ma non vedo l'ora non vedo l'ora a parte che anche qui a copertì no vabbè scherzo poi ho preso questo Emily Dickinson perché io ci sto girando intorno da un po' di tempo volevo leggere qualcosa di Emily Dickinson però tra una cosa e l'altra l'ho sempre non è che l'ho evitata ma non ho volutamente fatto ricerche perché mi sono sempre detta ho già troppa roba devo smaltire prima quello che ho poi un bel giorno vai davanti a una bancarella vedi questo e che fai lo lasci lì io penso che sia un buon modo per conoscere un po' la personalità di Emily Dickinson perché queste sono tutte lettere scritte a parecchie persone non una sola persona e tra l'altro questo che costava 25.000 lire e l'ho pagato 3 euro sono aspettate che ve lo dico sono 232 pagine vi dicevo tra l'altro secondo me questo aspetta che sto scomoda questo è stato un testo scolastico o comunque un qualcuno che era molto interessato perché vedete che ci sono i segni di matita quindi secondo me o era un libro che qualcuno ha dovuto studiare all'università e che non ce la faceva talmente più a vederlo che alla fine l'ha dato via oppure semplicemente per questioni di spazio vedete? eh ok so che c'è qualcuno a cui magari potranno dare fastidio le sottolineature in realtà a me non danno fastidio più di tanto semplicemente perché io sono sempre abituata a sottolineare quando apro non tanto i libri di lettura alcune volte lo faccio tipo per esempio con Cime Tempestose l'ho fatto con Jane Eyre l'ho fatto alcune volte sottolineo le cose più... l'ho fatto anche con altri libri che adesso non mi vengono in mente però l'ho fatto alcune volte ma al di là dei libri di lettura anche a scuola io ero abituata a sottolineare tutto con la matita e a scrivermi gli appunti le cose più importanti a fianco quindi è una cosa che fa parte di me visivamente fa parte di me quindi a me non dà fastidio vedere le sottolineature poi non so invasive anzi devo dire che mi fanno pensare a un libro vissuto e il fatto che un'altra persona l'abbia letto prima di me e abbia apprezzato questi punti già mi può dare l'indizio di cosa è importante o meno premesso che lo leggo tutto e non salto pagine però chissà magari io trovo anche altri spunti oppure non penso che siano così belli i punti che lui ha sottolineato o lui o lei ha sottolineato vedremo comunque non mi dà fastidio non è una cosa che mi fa sclerare l'unica cosa che mi fa veramente sclerare in un libro sono le orecchie soprattutto nella copertina rigida non tanto nelle pagine dentro ma nelle copertine quelle mi danno proprio ai nervi infatti tutti i miei libri sono tutti tutti livellati capito e se vedo che una pagina sta andando così lo metto sotto un peso per farlo tornare su quello non trazzigo ma le scritte dentro se non è se non è particolarmente pasticciato e per eguagliare la mia idea di pasticciato ce ne vuole perché io veramente facevo dei casini assurdi come nei libri di scuola sottolineature evidenziatori mai a penna eh mai sempre a matita però evidenziatore sì matite colorate pennarelli io sono una persona che che va molto a memoria a memoria fotografica quindi per farmi rimanere impresso qualcosa ho bisogno di fotografarmelo nel mio cervello e i colori mi aiutano non so se anche voi siete così non lo so penso sia un metodo di studio efficace un giorno magari vi dirò qualcosa di più se a qualcuno può interessare sarebbe carino poi prima di dirvi vabbè ormai l'avete visto io so che fra di voi c'è qualcuno che snobba il supermercato potrebbe esserci qualcuno che snobba il supermercato e io ti dico fai male a snobbare il supermercato perché chi cerca trova si trovano delle offerte molto molto carine molto vantaggiose i tre libri che vi faccio vedere adesso li ho presi infatti in un famosissimo supermercato della grandissima distribuzione così non faccio pubblicità che ha proprio la corsia dedicata alla libreria e ogni tanto mette in sconto qualcosa magari per svecchiare ho preso sì un'autrice italiana udite udite io che non compro quasi mai autori italiani ebbene ho comprato il veleno dell'oleandro di Simonetta Agnello Hornby io ammetto la mia ignoranza non ho problemi perché tanto so che rimedierò io non la conoscevo lei l'ho conosciuta attraverso il programma televisivo che davano un po' di tempo fa in televisione non lo so mi è sembrata una donna molto simpatica a parte di una finezza e di un'educazione assoluta e poi non lo so mi hanno conquistato i paesaggi di questa tutto il panorama che si godeva da questa sua grandissima villa in campagna non lo so da quel momento mi è venuta voglia di leggere qualcosa di lei e ho trovato questo in sconto quindi coincidenza più coincidenza allora che è l'universale economica Feltrinelli non mi ricordo se ve l'ho detto ve lo dico adesso 7,23 euro costava 8,50 euro e sono 216 pagine non sono tantissime è anche scritto abbastanza largo quindi però ha tutte le carte in regola per poter diventare un romanzo per me interessante perché ha quest'alone di mistero intorno a questa grande famiglia che già leggendo la trama mi ha stuzzicato la fantasia lei è siciliana e ha ambientato questo romanzo in Sicilia a Pedrara che purtroppo ahimè nuovamente ammetto la mia ignoranza non so dove si trovi lei è andata a Palermo so dove si trova a Palermo però non sono mai stata in Sicilia mi piacerebbe un giorno andarci perché tutte le persone che ho sentito hanno che l'hanno visitata ho sentito dire solo cose meravigliose ci sono delle cose veramente belle da vedere e da mangiare anche anche quella è importante quindi un giorno ci andrò non vedo l'ora intanto mi leggo un bel romanzo ambientato nella terra di questa simpaticissima scrittrice vediamo un po' come va non lo so poi altro libro che ho preso sempre al supermercato con gli sconti e questo è l'altro romanzo di Tracy Chevalier che avevo detto che avevo comprato l'ultima fuggitiva qui c'è 9,90€ è in copertina rigida ma io in realtà l'ho pagato 8,42€ che per essere un libro in copertina rigida 8,42€ non è niente sappiamo no? quanto costano quelli in copertina rigida tra l'altro qui ci sono anche le trame di alcuni suoi romanzi che io sicuramente mi andrò a vedere sono 308 pagine è scritto anche questo largo con i margini belli grossi però allora diciamo che io questo l'ho comprato sulla fiducia perché Tracy Chevalier i due romanzi che ho letto li ho trovati a parte la ragazza all'orecchino di perla che è stupendo anche strane creature è stato molto bello scusate questo è Neripozza trovo che lei scriva molto bene in maniera molto scorrevole e chiara quindi già che un già che un romanzo scorra così velocemente per me è una cosa più che positiva soprattutto in questo periodo che ho parecchi mattoncini con argomenti belli pesantucci da smaltire e questo potrebbe sicuramente un romanzo di mezzo a quelli il romanzo il romanzo il romanzo mettici una pezza come parlo non lo so io come parlo e io tra l'altro vi ringrazio ancora per tutti i suggerimenti che mi avete dato di Tracy Chevalier io me li sono scritti tutti o comunque ce li ho tutti a mente ma in generale tutti i consigli che mi date sui romanzi di qualsiasi genere sotto ogni video io li tengo me li tengo tutti a mente o proprio me li scrivo perché me li vado a controllare online e vedo se potrebbero piacermi o meno quindi voi non lo sapete ma state contribuendo ahimè ad allungare la mia lista dei libri vi ringrazio ma d'altra parte non sono poi così contenta perché è diventata un papiro poi un altro l'ultimo libro pesa al supermercato e fatemi togliere questo coso allora David Nichols un giorno ne ripozza anche questo copertina rigida stava a 9,90€ ma ops io l'ho attaccato storto anche questo l'ho pagato 8,42€ che torna a ripetere per un libro in copertina rigida non è affatto male sono non mi dì ho preso al volo 400 mettia a fuoco vabbè fidatevi sono 487 pagine e i margini sono infiniti quindi secondo me facendo i margini più stretti si arriva anche a 300 pagine quindi vabbè poi non ha importanza questo allora su questo ci hanno fatto un film che io non ho visto ma so che hanno fatto il film perché questa è Anna Atway bravissima attrice mi piace un sacco lei e perché l'ho comprato io ho letto la trama e mi ha colpito è difficile che già dalla trama un libro ti possa dare delle determinate sensazioni perché la trama non l'ha scritta l'autore ma l'ha scritta l'ha scritta qualcun altro che ovviamente ha letto il libro ma non è l'autore quindi la trama è scritta da un'altra persona che ha semplicemente letto il libro e riuscire a comunque a dare determinati input determinate sensazioni solo con la trama vuol dire che qualcosa questo romanzo ce l'ha da dire che cosa mi ha comunicato vi faccio un esempio per far non so se riuscirò a farmi capire ma cercate di seguirmi allora io ho 32 anni e a volte mi capita non so se capita anche a voi di ripensare che ne so quando andavate a scuola alle superiori e di pensare a quel periodo sì con una malinconia ma non è una malinconia non è neanche giusto chiamarla malinconia perché non è una sensazione sgradevole triste una sensazione depressa è una sensazione allegra divertita come per dire ah quante no combinate ah se potessi tornare indietro ah che quante cavolate ho fatto una sensazione del genere comunque un ricordo però con cui ci ripensi con un po' di distruggimento però è una cosa positiva non negativa non so se sono riuscita a passarvi il concetto spero di sì ho provato questo quando ho letto questa trama di questi due personaggi che si che si rincontrano dopo tanto tempo insomma ho detto se solo con la trama questo romanzo mi ha comunicato questo vuol dire che il libro qualcosa ce l'ha da dire tra l'altro è stato anche un best seller perché ha vinto si ha vinto ha venduto oltre 5 milioni di copie vedi due ragazzi si inseguono per 20 anni senza poter mai dire a se stessi che il loro è vero amore ok io i romanzi così sdolcinati non ne leggo tantissimi però non è che non li leggo anzi io ho sempre detto non bisogna non bisogna escludere niente bisogna leggere tutto quindi lo trovo molto interessante questi acquisti al supermercato sono stati molto interessanti secondo me dovete andarci voi che diffidate dovete andarci soprattutto quando trovate questi cestoni dovete scavare dovete pure vedere dietro in fondo a tutto perché a volte i romanzi migliori li nascondono dietro a tutti perché vogliono sbarazzarsi prima di quelli che non hanno venduto per niente ah il marketing non ho scherzo questo che vi sto per fare vedere questi ultimi che vi sto per fare vedere li ho comprati in libreria sì ho comprati in libreria vi presento uno dei primi cinque libri che io ho inserito nella mia primissima lista di libri da leggere nel momento in cui ho cominciato a scrivere la lista dei libri da leggere quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa ho preso finalmente le ceneri di Angela di Frank McWorth mi dispiace che non vedete nulla poi la luce rimbalza perché è ancora incelofanato però non voglio non voglio aprirlo perché voglio lasciarlo bello compatto senza orecchie visto che stipo tutto dentro l'armadio e praticamente c'è un muro di tetris lì dentro questo ebbene sì è stato uno dei primi cinque libri che cioè no non uno dei cinque libri era tra le prime cinque righe della mia lista che avevo scritto perché tra i primi cinque c'era la saga di la serie di e non sono propriamente singoli libri quindi la quinta riga fra le prime cinque righe c'era questo non l'ho mai comprato non ho mai avuto il coraggio da quel giorno di comprarlo perché di questo hanno fatto il film l'ho visto e so che sarà un romanzo molto impegnativo perché il film che è stupendo però è un film che abbastanza non è impegnativo però è un film di quelli che ti tocca che ti fa pensare e essendo io una persona abbastanza sensibile ci penso due volte prima di comprare romanzi del genere perché sono abbastanza allora chi di voi ha letto il libro e ha visto il film se può dirmi se c'è tanta differenza fra l'uno e l'altro so che ovviamente non potranno essere uguali perché per ovvi motivi bisognerebbe fare un film di 5 ore però così almeno mi regolo se devo prendere solo un pacchetto di fazzoletti o se ne devo prendere 3-4 ditemi voi allora questo sta a 12 euro sì questo penso di averlo preso a pezzo pieno le pagine non ve le posso dire perché c'è la copertura c'è la il cellophane non lo so vediamo vediamo poi in libreria sempre quella che frequento di solito ci avete presente l'angolo più remoto il tavolino più lontano dove non arriva la luce ecco io sono andata a pescare lì ovvero all'angolo dell'outlet e ho preso due bei romanzi ho preso questi due vabbè Charles Dickens e il mistero di Edwin Drood non ha bisogno di spiegazioni di introduzioni di commenti questo io non lo conoscevo l'ho comprato perché stavano proprio uno vicino all'altro e mi ha incuriosito ho letto la trama e ho detto questo secondo me è un bel romanzo che ti fa pensare uno di quelli proprio che non possono non lasciarti niente dentro è Lavoraggine di José Ostasio Rivera tutte e due sono della UTET della casa editrice UTET io questo non so che genere di romanzo sia non ho mai sentito quest'autore non ho tanto meno mai sentito questo romanzo però leggendo la trama potrebbe essere un romanzo di quelli belli tosti di quelli che ti fanno pensare penso cioè perlomeno dalla trama è così non sarà semplice lo so questo stava 8 euro però era l'angolo dell'outlet quindi penso di averlo pagato anche intorno ai 5 non ricordo l'ho preso più di 3 mesi fa sono 356 pagine è scritto piccolissimo quindi questo andrà proprio letto nel momento giusto questo invece il mistero di Edwin Drude stava a 9 euro ma sempre per lo stesso motivo perché era outlet penso di averlo pagato ancora meno e sono 335 pagine allora su il mistero di questa figura di Edwin Drude si è scritto e riscritto di tutto se voi andate a fare un giro online ci sono una marea di opinioni non si è mai gli studiosi di Dickens non sono mai riusciti a capire chi cavolo fosse questo Edwin Drude se fosse semplicemente un personaggio nato dalla fantasia di un autore o se fosse veramente esistito o se Dickens in quel momento non stava proprio totalmente in sé quando ha scritto questo romanzo insomma c'è di tutto non può non stimolarvi la curiosità io avevo letto tanto tempo fa Drude di Ed Simons e mi rendo conto adesso che è passato un bel po' di tempo che a quel romanzo non gli ho dato la giusta non l'ho trattato in maniera giusta in maniera corretta non gli ho dato la giusta attenzione che merita quindi penso di rileggerlo un giorno lo rileggerò me lo sono me lo sono promessa perché l'ambientazione è fantastica se vi piace la londra vittoriana il romanzo gotico non potete non innanzitutto se vi piace questa atmosfera non potete non leggere qualcosa di Dickens che qualche accenno a questo c'è sempre anche se il romanzo parla di tutt'altro però Dickens ce lo mette sempre un alone di mistero anche in grandi speranze grandi speranze c'è sempre l'alone di mistero intorno ai suoi personaggi in particolare intorno a uno o due diciamo grandi misteri però se non volete impelagarvi in un in un classico perché magari non vi piacciono provate con con Drude di Dan Simons però io ovviamente vi consiglio Dickens perché oltre a essere un grande classico scrive anche benissimo non vi annoierà provateci non vi annoierà ogni tanto qualche classico che ho letto un po' di alti e bassi ce l'ho avuti però ci sono alcuni autori che ci sono vado solamente ad alti viaggio solo ad alti mai a bassi Dickens è uno di questi ho letto solo ovviamente ho letto solo grandi speranze speranze e il canto di natale non è tantissimo però o lo capisci se uno scrittore ti piace o non ti piace dopo aver letto due libri penso spero perlomeno così a me capita se non c'è verso manco dalla alla metà del primo romanzo riesco a andare avanti quindi se c'è qualcuno fra di voi visto le infinite possibilità di youtube e l'infinita popolazione che passa di qua se c'è qualcuno che ha letto questo se può dirmi se è interessante se ho fatto una cavolata soprattutto ditemi se ho fatto una cavolata perché io non conoscevo quest'autore boh è ambientato in Sud America a Bogota e nella foresta amazzonica anche ma vediamo ok questo era tutto e niente come avete visto non c'è nessun libro che possa che ci azzecca con un altro tutti i generi diversi ovviamente i classici non me li faccio mai mancare niente vedremo io c'ho un sacco di roba da leggere tanto per cambiare allora io vi ringrazio perché nonostante i video sporadici ormai su questo canale voi continuate a seguirmi e a inviarmi dei commenti veramente carini e molto interessanti soprattutto appunto quando mi consigliate dei romanzi e tra l'altro devo ringraziare Lady Aerie sì mi sembra che si chiama Lady Aerie che mi ha consigliato una casa editrice che fa delle biografie oh 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 che non la conoscevo e visto che sto da un po' di tempo ferma con le biografie perché sì di biografia vera e propria non ho letta una sola in più rispetto alle ultime all'ultimo video che avevo fatto penso che un'occhiata ce la vado sicuramente a dare quindi la ringrazio per questa dritta preziosissima e niente ringrazio tutti voi che mi mi seguite sempre con tanto affetto io veramente grazie non so come dirvelo e anche ai nuovi iscritti che mi hanno trovato non si sa come ma sono capitati qui e benvenuti fate come se fosse a casa vostra se fosse a casa vostra oddio insomma no scherzo va bene niente io vi saluto e spero di tornare al più presto con un video chiacchierata chissà non lo so ho ancora sono indecisa se fare un tag che mi piacciono tanto oppure un video chiacchierata sto andando più verso i tag perché così c'è modo di non lo so di conoscerci un po' meglio no anche di sapere cose curiose e così io perlomeno quando vedo dei video su youtube mi piacerebbe sapere qualche curiosità sulla persona che sta facendo video non lo so per immedesimarmi penso che siano interessanti carini simpatici un modo diverso per fare video anche li trovo anche molto divertenti rispetto ai video normali chiacchierata che faccio va bene vedremo che cosa il mio cervello elaborerà ok io vi saluto vi auguro un buon proseguimento di settimana purtroppo oggi il tempo è brutto sta anche piovendo e mannaggia quindi oggi non si esce va bene grazie di tutto veramente ciao ciao